ciao ragazzi vi faccio vedere questo foglio che ho stampato che raffigura una tastiera per il mac in questo caso per il macbook con raffigurati sopra le scorciatoie vedete? A ci viene l'indicatore normale Z lo zoom B il taglio T abbiamo questa cosa di precisione la H la manina e così anche gli altri pulsanti che hanno altre funzioni specifiche per scorciatoie di Final Cut Pro X io questo l'ho stampato ma proviene da una pagina Amazon è possibile comprare delle copere in silicone per tutti i tipi di Mac per tutti i tipi di tastiere per il Mac in maniera tale da farle diventare diciamo visivamente più facili da usare per il coso io su questa inserzione qua per Amazon.com ho trovato la fotografia semmai vi metterò anche un'inserzione per Amazon.it quello che mi interessava a me era la foto quindi cliccando sulla foto ci appare grande e poi io semplicemente questa grande l'ho stampato vedete qui? così sicuramente avendocela sui tasti perché si applicano sui tasti sono in silicone magari è ancora più facile inizi a imparare ma per me già avercela sotto mano diciamo un po' di tempo guardarla fisicamente così un po' di tempo mi aiuterà a memorizzare alcune alcune scorciatoie soprattutto in questo periodo che sto facendo un po' di pratica con Final Cut Pro X va bene se il video è stato utile lasciate un pollice in su e se usate altri programmi andate a vedere andate a vedere tastiera in silicone per il programma di editing è incapace che trovate anche voi una tastiera in silicone e forse anche nel vostro caso basterà semplicemente stampare la fotografia su un foglio di carta con la stampante per avere un pro memoria visivo che magari vi tornerà utile ciao ragazzi